Il progetto europeo dedicato alla memoria di quanti si spesero per salvare le vite degli ebrei durante i rastrellamenti nazisti. Si chiama il civico giusto, Virginia Polizzi. E' nel villino di via Siacci 12 a Roma che trovarono la salvezza iconi o Gisoria grazie alle famiglie Lai e Giordano, i salvati e i salvatori. Storie che si intrecciarono durante l'occupazione nazifascista che costrinse migliaia di persone alla fuga e alla clandestinità. Molti non ce la fecero, altri sì grazie alla generosità di chi rischiò la vita accogliendo nelle proprie case i fuggitivi. Il civico giusto, un progetto europeo che continuerà nei prossimi mesi a segnare positivamente tra le altre città anche i palazzi di Roma, è per loro. Vogliamo sottolineare la vita e le gesta di chi non si voltò dall'altra parte. Non tutti furono uguali come adesso nella vita di oggi, non tutti sono uguali. E noi crediamo che vada sottolineato chi fa la differenza. È un albero, il carrubo, simbolo di fecondità e solidarietà a contrassegnare le case che divennero rifugio e un QR code che con la voce dell'attore Roberto Ciufoli continuerà a raccontare alle generazioni che verranno questa grande storia di vita. Sono il civico del villino di Siacci 16 che stava qui, proprio accanto a questo palazzo giallo. Vi voglio raccontare che cosa è successo durante l'occupazione tedesca. Ed è tutto dal TGR Lazio, prossimo appuntamento alle 23.35. Buona serata.